Un punto per riprendere la marcia dopo il K.O. di Matelica. Il Chieti fa 1-1 contro il Cattolica San Marino, che dimostra al Mariani Pavone di Pineto di non valere i bassi fondi della classifica. Cerricci in difesa prende il posto dello squalificato Fantauzzi per il Chieti, con Talucci che vince il ballottaggio con Panecasio per il ruolo in tutta fascia a destra. In attacco Bruschi e Traini, con il Cattolica e l'ex capitano del Pescara Emanuel Cascione, che sceglie di giocarsela a specchio rispetto ai Neroverdi. Ne viene fuori un primo tempo non particolarmente emozionante dal punto di vista delle occasioni offerte. Al settimo ci prova Traini con un rasoterra che Benedettini par senza troppi patemi. Un paio di minuti più tardi Bruschi termina a terra in aria ed accende una protesta, ma il direttore di gara non prende decisioni. Passeranno poi molti minuti prima di annotare un diagonale di stallone che si spegne sul fondo. Al trentottesimo il Chieti torna a farsi vedere con Talucci che premia l'inserimento in aria di Marzola, la cui girata di testa però non trova lo specchio. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è il tempo di annotare Bruschi, indirizzare un calcio di punizione centralmente verso la porta. Il Chieti inizia con l'atteggiamento sbagliato alla ripresa e viene punito dopo sette minuti. Da un'incursione in aria Battistini salta più in alto di tutti e mette il pallone di testa alle spalle di Camerlengo per il vantaggio del Cattolica. La risposta a Neroverde è in un tiro all'undicesimo da fuori di Traini che si spegne alto. Un minuto più tardi Bruschi impegna Battistini in angolo direttamente da calcio di punizione. Il pareggio però è nell'aria e prima del quarto d'ora Traini finisce a terra in aria in un contatto con Berra ed il direttore di gara segna calcio di rigore per la formazione Neroverde. Dal dischetto va Mazzoli con un destro che si infila all'angolino per l'1-1 della formazione di Grandoni. Il Chieti poi molla di nuovo un po' la presa e si ripresenta dalle parti di Benedettini solo al 35esimo quando Traini dal limite si esibisce in una bella girata non premiata di un soffio però dal gol. I cambi danno nuova spinta al Chieti, soprattutto Vittiglio nel finale proverà a guidare la fase di spinta e viene fuori una pressione pressoché costante ma nessuna palla gol davvero nitida. Finisce dunque con un punto che fa di certo molto più piacere agli ospiti vista la classifica deficitaria mentre il Chieti al secondo pareggio casalingo consecutivo affronterà domenica prossima in trasferta il Montegiorgio a caccia del ritorno alla vittoria. Durante i 90 minuti non si può sempre pensare di andare al massimo, di comandare il gioco anche se oggi l'abbiamo fatto anche un po' per i nostri avversari che hanno deciso di aspettarci la loro metà campo. Nel primo tempo soprattutto non siamo stati bravi nel muovere palla velocemente, eravamo un pochino troppo lenti e rischiavamo poco la giocata anche in avanti proprio perché non vedevamo magari spazi e pensavamo di poterli muovere più velocemente. Noi siamo riusciti, nel primo tempo siamo stati bravissimi a reagire al loro vantaggio anche un po' a sorpresa per come è andata i primi 45 minuti e poi abbiamo continuato a provarci facendo sempre attenzione alle loro ripartenze perché hanno giocatori in avanti assolutamente bravi, soprattutto dopo quando è entrato Sisse poteva farci male, siamo stati bravi a non concedere nessuna ripartenza importante ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti ma l'importante è continuare a lavorare così come stiamo facendo anche la squadra oggi ha cercato di fare assolutamente la partita la cosa più bella oggi è quella che nonostante lo svantaggio abbiamo battuto al centro e abbiamo subito ricominciato a provare a giocare e a fare quello che proviamo in settimana quindi questo è assolutamente di buon auspicio per il futuro e noi continuiamo a lavorare con la massima positività. Sono contento, ma l'ho sempre detto dall'inizio veramente, al di là di qualche partita dove abbiamo sbagliato un tempo però sono sempre stato contento di questi ragazzi perché stiamo raccogliendo molto, molto meno di quello che stiamo facendo dimostrando e questi ragazzi stanno dando soddisfazioni a livello comportamentale, caratteriale ma anche di qualità di gioco e venire a pareggiare qui è un buon punto anche se per come è nato l'1-1 c'è tanto rammarico. Sei d'accordo sul calcio di rigore? Ma guarda, se ci fosse lo stesso metodo di giudizio allora va bene quindi doveva fischiare anche su berra cinque minuti dopo quando vedi disparità nelle cose allora un pochino ci rimani un po' sorpreso però in questo momento fa parte, questi errori ci sono e ci saranno sempre quindi non dobbiamo pensare a queste cose qui in questo momento penso solo alla squadra di come sta esprimendo le proprie qualità durante le partite.